Ciao e bentornato, con questa prima parte andremo a vedere come realizzare semplicemente dei cassetti, buona visione. Se sei interessato a replicare il progetto in descrizione ti lascio il link del mio blog dove puoi scaricare questo progetto e anche gli altri. Dopo aver preparato i componenti della struttura passo a bordarli e a praticare gli alloggi per i lamelli. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Le guide che userò per questo progetto sono delle più economiche. Per il montaggio è necessario lasciare 24 mm. Ora passo a preparare i componenti dei cassetti. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!